no questa è la fortnite che no 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 guarda te ne puoi andare a fanculo sono entrato diamo un pugno a questa non ti lascio niente prendi tutto è un pugno a questa è un pugno a questa ma armi non ce ne so un pugno a questa 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 sempre che è sospeso un pugno a questa un pugno a questa a me sembra che un pugno a questa un pugno a questa enorme facciamo una cosa facciamo così vedo a questa e quindi un pugno a questa un pugno a questa allora io l'ho messa ah ok sicuro ho in mente di uccidere un po' di pollica sono troppi non è che abbia bisogno di cinta ma sono come fanno sono troppi le galline allora facciamo così mettiamo questo perro questo lo conserviamo ecco cosa dovevo fare mi ero messo l'ossidiana qua perché avevo detto che come entravo dovevo fare il portale per il nether togliamoci questi blocchi allora l'acerino non lo vedo io oppure non c'è no 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 c'è c'è eccolo qua un po' di non ricordo più adesso, mi pare che cos'è giusto, 3? no forse qua dovevo mettere l'altra cobblestone ma tanto andarci bastano, speriamo di non sbagliare sì, lo sapevo, come un po' di biondo c'è un brutto presentimento, quindi noi ci prendiamo anche se penso che non bastino sono 5 e 6, e qualcuno ci distrugga il portale nel nostro quindi per tornare dovremmo solo morire sono 6, non servirebbero altri 2, ma lo facciamo, gestiamo, ci perdiamo tutto andiamo a dare uno sguardo in fretta andiamo e 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 ci ripariamo un po' così bene una passantina qua e 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 si è bloccato per un millesimo di seconda forse più e 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 state vedendo e ricordatevi questo eh io la porta l'ho chiusa e e e la porta è aperta e e e e e e e e 10 blocchi 10 blocchi e 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 per cercarlo bene dovremmo fare un video più solo che la cosa strana è che la porta siamo tornati dal netter e la di altro non abbiamo visto niente beh ciao ciao